Cari concittadini, la situazione si sta aggravando di giorno in giorno e oggi, con maggiore forza, voglio dirvi che serve la collaborazione di tutti, di ciascuno di voi, nessuno escluso. Come ha annunciato ieri il Presidente della Regione Lombardia, Tiglio Fontana, il sistema sanitario regionale è al collasso. Si avvicina il momento in cui potremmo non riuscire più a curare tutti i malati. Voglio sottolineare che per fortuna molti guariscono e per questo dobbiamo essere ottimisti. Ma ancora molti, direi troppi, vengono contagiati e si ammalano, alcuni in maniera anche grave. Sono tanti, tantissimi cittadini che rispettano con scrupolo e senso di responsabilità vero le prescrizioni, che rimangono a casa, che escono solo per necessità, che mantengono la distanza di sicurezza, che proteggono gli anziani e chi soffre di altre patologie, che adottano tutti gli accorgimenti necessari. Li ringrazio tutti di cuore. Ringrazio anche quelli che ogni giorno mi segnalano i comportamenti errati perché dimostrano vero senso civico. Purtroppo però ci sono ancora cittadini che con superficialità ignorano le prescrizioni, mettendo a serio rischio se stessi e una comunità intera. Mi sento di dire che ciò non è più tollerabile. È proprio necessario andare a fare la spesa tutti i giorni? È impossibile rinunciare alla corsa quotidiana? È necessario allungare la passeggiata con il cane? È impossibile rinunciare a incontrare gli amici? È ragionevole recarsi nell'unico bar aperto per bere il caffè? Questi comportamenti denotano irresponsabilità. Ricordatevi che anche chi sta bene può essere portatore di contagio. Pensiamo a chi è ricoverato in terapia intensiva, a chi sta piangendo un proprio caro defunto. Pensiamo ai medici e agli infermieri che svolgono un lavoro straordinario e che vedono vanificati i loro sforzi per l'irresponsabilità di chi non ha ancora compreso che quella che stiamo vivendo è una tragedia di proporzioni inimmaginabili. È difficile, lo è per tutti, ma non possiamo mollare, non adesso. Servono ancora molti giorni di rinuncia e di impegno, su tutta la linea, ma ce la faremo, ne sono convinto. Ma dobbiamo rimanere in casa e proteggere le persone fragili. Medici e infermieri hanno tutta la nostra riconoscenza. Siamo loro idealmente vicini e li sosteniamo con tutto il nostro cuore. Anche per rispetto a loro ho voluto fare questo ulteriore appello. Vorrei esprimere la mia vicinanza e di tutta l'amministrazione comunale della cittadinanza alle persone ammalate, a chi ha perso un congiunto, a chi non ha un familiare ammalato o ricoverato, a chi è risultato positivo. Questi sono momenti difficili, da vivere con la dignità propria della nostra gente, pur nel dolore, ma che ci auguriamo di superare presto. Concludo richiamando il senso civico che è dentro di noi e lo spirito di comunità che sento via via crescere fortemente e sempre di più. Ciascuno deve fare la propria parte. Dobbiamo dare il meglio di noi stessi. L'organizzazione che abbiamo attivato ci dà ampie garanzie per l'assistenza dei cittadini nelle necessità quotidiane. Non temete. Impegniamoci e tutto tornerà alla normalità. Ne usciremo più forti e compatti di prima. Conto su di voi!